Bastardi sulla gente ritirate! Bastardi! Bastardo! Bastardi! Bastardi! Bastardi, come sempre, rivediamo anche le situazioni non tanto felici, però questi sono i dati di pari. Io parlerò rispetto alla giornata di ieri e dirò solamente alcune cose, anche impressioni di quello che è successo. Poi anche dal punto di vista tecnico proseguiremo la conferenza con altri interventi che spiegheranno anche la questione degli esforopi. Allora, quello che ho assistito, abbiamo assistito ieri, per me è stata, a dir poco, un'esperienza sconvolgente. Nel senso che avevo già, come dire, partecipato ad alcune manifestazioni e mai come ieri si è dovuto assistere a una, quella che io chiamo, una violenza gratuita. E la cosa, invece, un'altra cosa che mi ha fatto veramente, anche a riflettere, è il fatto che di fronte a questa violenza se ne stavano beatamente comodi dietro coloro i quali erano poi, come dire, quelli che dovevano fare gli esforopi. E uno di questi è il famoso uncino che avevo avuto modo di vedere qui nella sala consigliare qui del Comune quando facevo una trattativa con gli esforopi. E proprio lui disse in quella occasione, noi ci dispiace di fare gli esforopi, però noi siamo per gli esforopi umani. Ecco, chi vuole potrà andare a vedere sul sito tutte le immagini, tutta la documentazione. Ieri abbiamo assistito a un esforopio umano e abbiamo visto cosa è successo. Quindi questa, io credo che dal punto di vista dell'ordine pubblico non c'entra nulla a quello che è successo ieri perché ci sono altri modi di far rispettare l'ordine pubblico e ieri invece hanno fatto tutt'altro che fare rispettare l'ordine pubblico che noi diciamo sempre per far cosa? Un'opera pubblica, quindi un'opera che va bene a noi e questo secondo me è il metodo che usano per fare le opere pubbliche nel senso che prima vogliono trattare con i proprietari, quindi se si raggiunge l'accordo va bene nel senso che poi loro non fanno gli esforopi. Chi non raggiunge l'accordo, chi non è d'accordo, ecco qual è il metodo e ieri plano dimostrato. Poi diranno che gli esforopi non sono stati eseguiti comunque a tutto questo. Lo verifichiamo dopo. L'altra cosa invece che io ho notato, che continuo a notare, che noi continuiamo a notare è che in tutta questa fase sembra che tutti siano obbligati a fare quello che fanno. Prima gli operai che ci dicono, ci mandano, allora qui mi passano gli operai, fanno i lavori, i poliziotti, i carabinieri, ma noi ci mandano e tutti, beh anche noi, guardate, ci viene voglia di mandarli anche noi, perché poi alla fine, come dire, noi restiamo soli e sembra tutto giustificare che tutto questo metodo sia per il nostro bene. Non sto qui certamente a dirvi i motivi per cui noi siamo contrari, ormai la vediamo 100.000 volte, però credo che quello che abbiamo assistito ieri, per chi vuole vedere, è una dimostrazione veramente lampante che qui vogliono fare quest'opera costi quel che costi. L'ultima cosa che vi voglio dire, che vi vogliamo dire è questa, io credo che ci sia un silenzio assordante della politica, perché come sempre i veri mandanti, cioè coloro che hanno deciso di fare quest'opera, poi alla fine, se trovano un'opposizione, che è l'opposizione, quella che vedete con i nostri voti, si rimandano avanti o la polizia o i carabinieri e se non basta anche la magistratura. E quindi questo, diciamo, è quello che mi preme sottolineare. Altre cose poi, magari sulla questione degli spropi, poi magari spieghiamo bene. Sì, cosa è successo? Noi facciamo questa conferenza stampa, praticamente non è che abbiamo grandi novità, perché infatti riconoscete, ho tolto appunto le due questioni in cui poi interverrai il genio. La cosa che ci è successo è stata che è stato pianificato quello che ci è capitato ieri. Sì, a lunedì c'erano sia il Coci che gli altri ufficiali della polizia che giravano alla Libarna, hanno camminato avanti e indietro, hanno studiato evidentemente il territorio. Noi l'avevamo anche visti, ma tutto ci aspettavamo, meno quello che è successo. E quello che è successo per noi è gravissimo, insomma. Non c'è bisogno che lo diciamo perché è dal primo giorno che succede, poi c'eravate tutti, avete visto il video, noi eravamo tutti lì a volto scoperto e senza nulla. Ma insomma non c'era un manifestante che avesse, neanche che un breve, quando è successo il pasticcio. Ci siamo trovati al mattino con uno schieramento di polizia imponente, hanno bloccato le strade a Serravale, a Quata, a Gavi, sono scesi da questi cellulari che abbiamo portati tra poliziotte e carabinieri 9 e c'erano 20 macchine, si sono messi in tenuta anche in sommossa, caschi, elmi, scudi, tutto quanto. Lo diciamo perché da questo punto di vista qua noi eravamo lì a mani nube, la nostra idea era il blocco questo sì. Già all'inizio si è capito che in queste operazioni qua, una volta che sono messe in moto, non si sa bene poi chi controlla che cosa, perché, come dire, anche nello spingere, e vedi se spingono in un modo o nell'altro. Ma alla Libarna, diciamo, quello che è successo è stato che ci siamo spintonati, che ci hanno spintonato e che hanno fatto queste, che loro chiamano, infatti, in possesso, nel senso che sono arrivati lì, hanno toccato una ramina e hanno detto, qui io ho espropriato. Sono andati là, hanno fatto una foto e hanno detto, qui abbiamo espropriato. Ma su questo poi tornerà a Egio. Invece cosa è successo nel bosco? Che è una cosa davvero inaccettabile. Nel bosco, oltre, diciamo, a spingerci e a darci le manganellate, non che ci sta a darci le manganellate, non ci sta, perché non è una cosa che non ha senso, ma hanno tirato una marea di lacrimogeni, ma di lacrimogeni di quelli velenosi, fra le altre cose. Ora, anche pro, insomma, questa cosa per noi è stata una vigliacata, è una cosa gratuita, nel senso che noi, come abbiamo fatto alla ribamma, facevamo lì, eravamo gli stessi, sempre avuto scoperto senza che succedesse nulla. E, diciamo, questa cosa si è ripetuta anche alla crema, lì, dopo la galleria, anche lì in maniera incomprensibile, nel senso che dovevano, noi abbiamo avuto l'impressione ad un certo punto che lì abbiamo sbagliato qualcosa, che qualcuno pensasse che era da espropriare la casa, perché ci hanno spinto e dato manganellate per cento metri che l'accesso al campo che dovevano espropriare era riga, non c'era un campo, è lì, sulla destra della strada. Così è andata, come dire, ci hanno spinto indietro e picchiato, perché ci hanno dato un sacco di manganellate per cento metri senza nessun motivo. In questa situazione è chiaro che si perde anche l'estate. Ed è successa la faccenda di pronesti, che secondo me è grave, perché, ossia, poi, logicamente, da tutte le parti c'è chi probabilmente si controlla meno, ma sembrava che questi fossero convinti di essere allo Stato e di aver fermato Gianni a Carogna, insomma, nel senso che, grinfiato, tra l'altro, eravamo in una casa, insomma, dentro il terreno, e stavamo appunto dicendo, ma siamo fuori dalla strada, con un atteggiamento incredibile, proprio, insomma, il braccio li erano preso per destrozzare, era proprio la classica opposizione per rendere il mondo. Ecco, noi, quello che diciamo è, questa è chiaro che è un'azione che è stata pianificata da Trinato, la richiesta al Cocci, sono arrivati, hanno, come si dice, studiato il terreno, però la violenza è stata gratuita. E questa cosa dei lacrimogeni, secondo me, inaccettabile, secondo noi, inaccettabile. Noi non capiamo l'atteggiamento, ma eravamo lì, lo ripetiamo, lo ripeteremo all'infinito, a volto scoperto e a mani inuta. Quindi, da questo punto di vista, non possono dire che rappresentavamo un pericolo, che succedesse chissà cosa, c'è una marea di filmati che lo dimostrano. E, prima di parlare delle scopi, mi fa il piacere di dare i giornalisti. Solo per dire come ci prendono in giro, no? Abbiamo cancellato il nome, non perché la Iole abbia dei problemi, perché ci sembrava una cosa inutile. Questa è la lettera che il Cocci ha mandato, questa volta qua, per gli esporti. L'abbiamo distribuita perché, secondo me, merita. 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 Il Cocci spedisce questa lettera qua, e poi arrivano in quel modo lì. Io credo, come dire, dia proprio idea della considerazione che hanno delle persone. Buon, io mi fermerei a lasciare un altro conegno per dire le due questioni che ci premono di più, che per noi sono più notizie a nostro dietro a questa ricorsa. Allora, sì, innanzitutto, la giornata di ieri per noi è stata assolutamente positiva. Noi siamo riusciti, formalmente, a bloccare i otto espropri. Un espropri solo sono riusciti a farlo da un punto di vista tecnico, come andava fatto, ed è l'ultimo, quello di Pozzolo. A proposito di questo, mi allaccio a questa cosa per dire, gli espropri di Pozzolo l'hanno fatto entrando nel campo, quindi verificando l'accesso al campo, entrando nel campo, verificando che non ci fosse il proprietario. Gli altri otto espropri li hanno fatti senza entrare nei terreni. Allora, da un punto di vista tecnico, loro devono accedere al terreno o ai cancelli e verificare che ci sia o meno la proprietà. Tutto questo non è stato fatto. Prendo un esempio su tutti il terreno di un espropriato di Alquata. Allora, loro hanno fatto l'espropriato stando nel comune di Saravalle. Il terreno che devono espropriare è nel comune di Alquata. Ora, noi ci chiediamo se facendo delle foto l'espropri è valido e dicendo questo chiediamo se bastano delle foto non riusciamo a capire il motivo per cui debbano mobilitare 200 uomini delle forze dell'ordine per fare l'espropri. Se basta fare una foto, loro passano in macchina a farla. Quindi quella di ieri è stata proprio una giornata in cui hanno deciso di darci una dimostrazione di forza. ci hanno dato una sorta di ultimato, ci hanno detto basta, voi sono due anni che vi contrapponete a quest'opera in maniera determinata e pacifica e siamo ancora qua dopo due anni e crediamo che questi espropri realmente non li abbiano fatti. L'espropri ad esempio della Iole è la terza volta che lo inviano e per tre volte nessuno ha mai verificato suonando il campanello che ci fosse o meno la proprietà in casa. Quindi noi ad oggi abbiamo parlato anche con i nostri avvocati e siamo convinti che questi espropri da un punto di vista formale e legale non siano validi. Poi dopo di che se Coaching continuerà a insistere sul fatto che gli espropri così come sono avvenuti sono formalmente validi noi abbiamo parlato con i nostri avvocati ricorreremo per via legali quindi non treremo un esposto, un ricorso al dare vedremo quindi come muoverci per questo. Però ad oggi formalmente per quello che ci è sempre stato detto per come era la legge sugli espropri gli espropri non risultano essere stati fatti quindi anche a fronte di questo la giornata di ieri per loro hanno mobilitato forze dell'ordine hanno manganellato, hanno aggazato persone e poi nella realtà dei fatti non sapevano neanche dove andare ci sono stati diversi punti nel bosco in cui avanzavano le forze dell'ordine in schieramento Coaching, Uncino, non si sapeva dove fosse quindi loro spingolavano noi e in realtà non sapevano neanche dove erano non sapevano quali erano i terreni del espropriato quindi lo ripeto dopo due anni siamo ancora qua al punto di partenza il primo esproprio della Iole l'abbiamo bloccato il 10 luglio del 2012 30 luglio del 2014 siamo ancora qua a bloccare l'esproprio della Iole e ad oggi questa signora non è formalmente spropriata colgo anche l'occasione per lanciare una fiaccolata ad acquata domenica 3 agosto una fiaccolata che ha come inteso quello di innanzitutto mettere a conoscenza della giornata di ieri la popolazione di acquata quindi in solidarietà a chi ha resistito agli espropri e per ancora una volta ribadire il fatto che noi continueremo l'opposizione al terzo alico con tutte le forme che ci hanno contraddistinto dal 2012 fino ad oggi e un'altra cosa come sapete c'è anche un fronte di opposizione all'opera nel Comune di Genova stanno realizzando la finestra di Cravasco che è sostanzialmente la finestra come quella di Voltaggio qua quindi le gallerie di servizio e per venerdì sera i comitati della Valverde hanno indetto un presidio alla sera davanti ai cancelli quindi ci sarà la solita familialità una mangiata tutti insieme e si starà simbolicamente davanti ai cancelli del cantiere di Cravasco che pare sia un cantiere operativo 24 ore su 24 quindi molti di noi non possono andare come sapete abbiamo già parlato qua siamo colti dai fogli di via però ci saranno parecchi piemontesi che si muoveranno appunto a Cravasco e a Soverte questa è un po' l'esposizione se ci sono domande che rimedi ho pubblicato sulla manifestazione di Domenica come vi organizzate cioè avete già idea del percorso? il concentramento il concentramento è davanti al comune di Alquati in piazza Santa Battaglia lì alle 8 e mezza poi faremo sostanzialmente il centro di Alquata e il punto di arrivo sarà la piazza nuova quella che si trova davanti alla SOMS in cui ci sarà un concerto in un gruppo di Zandè che appunto sono tra virgolette sono anche montati un volontino eserogato per prendermi sì possiamo mettere i nomi di chi ha parlato alla conferenza stampa Rai Nero Gioi Vino Antagalli Rai Nero Antagalli Barchesotti Gianfranco e Eugenio Spinello Feriti due li vedo qua sì no contusi e tanti contusi e tanti feriti erano feriti due e il carro è stato colpito da uno scuro da uno scuro sì mentre indietreggiava chiaramente è stato colpito da uno scuro diciamo che i lacrimogeli stanno all'altezza l'uomo perché c'era la gente per molti questo è l'impatto noi credo li abbiamo li abbiamo portati una parte sì vabbè non per ma abbiamo l'accordo questo è un campione quello che era lì più visibile poi questi sono CS allora CS sono vietati in operazione di due euro nella connessione di Ginevra li usano su di noi molti prestanti determinati pacifici però forse scoperto CS CS sarebbero ma la bc non è così semplice proprio però non so precisamente sono di due tipi un tipo gli importi grossi scoppiano e si aprono noi una deflamentazione una deflamentazione sì sì comunque anche a respirare ho preso una poca miseria questi tolgono proprio si tolgono non solo il respiro ma tiritano la pelle per la mano è che c'è un mandato in un'altra cosa è un poca per lì hanno una definizione sono vietati sono vietati in operazioni di guerra perché sono velenosi sono tossici sono considerate armi chimiche come come aschimico sì sono tollevati in operazioni di ordine pubblica avete visto tutti si ma sono tollevati ma sono un po' rispetto diciamo che oltre a tirarsi i lacrimogeni è una cosa che non ha senso noi lo ripetiamo all'infinito erano anche di questi ragazzi considerate che hanno tirato 40 lacrimogeni in un bosco a 20 metri dalle case animali bambini a casa non so che avete visto lì da uno dei nostri scopriati a tutte le vesiche oltre al ricorso che avete preannunciato per quanto riguarda gli scopri condotti in maniera non regolamentale questo è tutto da vedere perché nel 2012 in realtà non hanno anche dovuto fare questo perché loro poi avevano detto i primi giorni che gli scopri erano stati fatti poi no no diciamo un danno di nuova mandazione giudiziaria anche per l'utilizzo di questo tipo di anni diciamo non abbiamo ancora ragionato si sta ragionando si sta ragionando tutte le azioni tutte le azioni che faremo noi abbiamo pensato che era importante fare oggi e poi ci riuniremo faremo il solito percorso e vedremo che cosa succede anche perché sugli scopri vogliamo avere prima la certezza che loro affermino che gli scopri sono stati fatti e a quel punto metteremo in moto la macchina dei ricorsi oltretutto sempre a proposito degli scopri di ieri quattro espropriati avevano presentato formalmente attraverso i nostri bloccati una diffida a Coci poi copia delle diffide le abbiamo date responsabili da piazza allora da un punto di vista tecnico loro non potevano prendere possesso di quei terreni perché le lettere erano state ritirate dagli espropriati non prima dei sette giorni che devono decorrere da un punto di vista di legge perché l'espropriato si è informato appunto che ci sarà l'esproprio quel giorno noi abbiamo comunicato questo sia a Coci tramite avvocati sia ieri in piazza abbiamo comunicato alle forze dell'ordine loro logicamente ha detto noi abbiamo disposizione a noi non interessa queste risquiglie tecniche legali quindi noi procediamo secondo gli ordini che abbiamo domenica sera rimanete in città dal 4 di nero no no pensiamo che è proprio una cosa per sottolineare quello che ci è successo non so per dire anche a Coci che dato che gli espropri noi pensiamo che non siano buoni neanche questi ma gli espropri ne faranno ancora noi saremo sempre sempre con le stesse modalità sempre allo stesso modo quando gli espropriati ci diranno guarda non è arrivato l'esproprio quindi sappiamo di non buttare nessuno noi come abbiamo fatto questa volta faremo le altre volte sempre a volte scoperte a mani nude ma con l'idea che per noi crescono i motivi che ci spingono a dire che quest'opera è davvero una volontà di spendere i soldi a tutti i modi e anche un po' di pigliare in giro la gente immaginatevi come sono rimasti gli espropriati che vedono che non provi neanche a suonare il campanello di casa allora dico una cosa dopo l'intervento delle forze dell'ordine dei funzionari nessuno si è preoccupato o occupato dei compilizi o un fatto di la propria allora noi come vi potete immaginare siamo oltretutto un movimento come dire di persone quindi di ragionamento ne abbiamo fatti 100.000 non siamo ciechi anzi siamo attentissimi quindi è chiaro che se c'è una fila di 20 poliziotti ce n'è 10 che picchiano in questi 10 ce n'è 5 che se possono e ce n'è di quelli che non picchiano neanche quindi non è che non abbiamo fotografato cosa è successo però la cosa che però nel senso per i conclusi la cosa che personalmente uno può anche come dire interessarsi ed è una cosa importante la cosa che però noi adesso oggi dobbiamo sottolineare lo ripeto non siamo sciocchi siamo capaci a guardare tutto studiamo tutto sappiamo però la cosa che diciamo è che loro hanno fatto quello spiegamento lì noi ieri mattina ci siamo trovati davanti un esercito di poliziotti tutti in tenuta anche sommossa poi dopo che hanno cominciato a spingere litigando siamo riusciti a discutere qualcosa però sono scesi hanno schierato le truppe e le truppe sono venute avanti la mia domanda era quella si erano preoccupati di averlo fatto male dopo una giornata così anche se uno mi viene a chiedere come sta il signor pronesti mi sembra anche poco educato hai gazzato la gente nel bosco per due ore hai manganellato per dieci ore c'è davvero questa c'è una domanda così ma noi lo ripetiamo noi siamo proprio perché siamo tutti persone che aderiscono notiamo tutto facciamo attenzione a tutto abbiamo studiato tutto però no la cosa che è successa ieri è quella prima devono dire questo perlomeno dovrebbero dire che l'hanno sbagliato in pieno poi quando loro diranno perlomeno che questo l'hanno sbagliato in pieno allora noi riusciremo anche a essere come dire un po' più elastici adesso siamo solo arrabbiati insomma anche perché loro prima si sono messi c'è i video si sono attrezzati e poi sono venuti avanti che ci gasavano lo sapevano lo sapevano bene io non so chi l'ha deciso questo comunque l'ordine è stato daero però questo è successo quindi questa è la discussione che abbiamo poi io lo ripeto perché è la verità fra noi discutiamo tantissimo tutto tutto questo sarà il 10% di quelli che si ma guarda io feci il G8 generale nel 2000 questa roba qua sono gli stessi sono gli stessi sono gli stessi che hanno usato il G8 quello diciamola così così ci capiamo diciamola così si è proprio visto che cosa è successo perché noi avevamo un'abitudine e ci siamo trovati in un'altra in un'altra situazione ed è chiaro che quest'ordine secondo noi ma magari quest'ordine è venuto dall'altro insomma lo ripeto erano lì c'erano ufficiali di polizia c'era coach c'era quindi non è stato pianificato comunque se c'erano come dice lei almeno 20 automezzi della polizia saranno 20 persone d'automezzo abbiamo contato 12 blindati tra carabinieri e polizia ci stanno vedi a bordo più o meno 5 uomini più il resto c'erano c'erano 80 questa prova di forza secondo la vostra lettura è un po' per dire questo è stato è la cosa che diceva sono due anni che voi vi contraponete la politica ha deciso che quest'opera è fondamentale poi stiamo ancora aspettando che ci diano le spiegazioni del perché è fondamentale quest'opera però insomma ogni cosa si gestisce attraverso questi mezzi esatto da un certo punto di vista abbiamo molte volte abbiamo avuto un'impressione ma le altre volte erano provocazioni di sciocche che tentassero di spingerci ma no noi siamo questo movimento qua non si devono fare di illusione non abbiamo fatto un percorso che è tutta una luce del sole le riunioni dei comitati sono sempre aperte magari venisse proprio tanta gente però noi non abbiamo niente da nascondere e continueremo da questo punto si si ribandiamo ma noi non facciamo passi indietro di fronte dato che eravamo lì già abbiamo chiacchierato con gli abitanti lì di Gavi della come si chiama della Valle di Valle se arriveranno gli espropri noi andremo a fare i presidi davanti agli espropri e ci comporteremo come ci siamo sempre sempre comportati insomma non ci spaventiamo ecco se questa era l'idea qui un po' ci vogliono spaventare un po' ci vogliono dividere un po' vorrebbero che facessimo delle altre cose no noi andiamo andiamo avanti come siamo andati avanti probabilmente non sono abituati a avere a che fare con i comitanti delle persone che mantengono la parola perché poi è questo che abbiamo fatto in questi anni ogni iniziativa pubblica l'abbiamo sempre riempitata fin dall'inizio sia per vento il passaggio dell'abbattimento delle reti come queste diciamo sempre prima quello che facciamo questa politica magari pensare che ci siano delle persone che mantengono la parola non ci quadra tanto non sono più abituati la classe politica avere a che fare con gente che dice ci mette la faccia ci mette la passione per dire noi faremo questo e noi ci saremo quindi un po' questa è la cosa da fastidio che manteniamo la parola evidentemente un po' magari forse è una cosa forse in modo sbagliato noi siamo qui non altro da giungere noi ci saremo se si chiamano andremo di nuovo e vediamo certamente sempre con le stesse modalità sono mostrato a stadio questo è un modo di educare mio padre è un padre padrone noi in questo stato abbiamo oggi ci vuole educare con il mare nero quindi questo il messaggio no noi siamo i padri e voi e se è quello che dobbiamo dire voglio dire però io voglio che davanti a una gente di polizia non c'era il black block non c'era poi il ragazzino con eccoli qua sono questi sono le immagini basta guardare c'è ancora altre domande grazie 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 grazie